Finisce in parità tra Bucinese e Baldaccio, dodicesimo fari per le ragazze di Coppi, che si è arrivato il momento di guardarsi dietro, cronaca scarsa di emozioni. Parte subito bene la formazione di Mr. Benedetti, il d'Urso sulla fascia destra per Andreoli, piattone a colpo sicuro fuori. E la volta della Bucinese in Tisamontone venticinquesimo, destro al volo di Stella, pallone non lontano, l'anno incrocio dei fari. Alla mezz'ora cambia forzato in casa Baldaccio, fuori l'Angiolucci, dentro Bruni. Con il secondo tempo andiamo al quinto minuto, Bucinese minacciosa attraversone i vaccini, Baldaccio si rifugia in angolo. Calcio da fermo ai quadroni, blocca Lampignano. Quarantaduesimo soffilato, pressione Bucinese, angolo di Mecocci, Simone, può solo sfiorare. Nei minuti di recupero arriva il secondo giallo per Andreoli, Baldaccio finisce in dieci. Bucinese amareggiata per i pari, ma per vincere bisogna tirare in porta.